Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come risolvere l'errore fatale riguardo a Steam che dà problemi all'apertura su Counter Strike Global Offensive quindi in questo caso ti spiegherò tre passaggi per risolvere questo errore quindi iniziamo prima ad andare andiamo su impostazioni su partecipazione alla beta facciamo una modifica nessuna, non farmi partecipare alle anteprime e facciamo Steam beta update e premiamo ok e riavviamo Steam ok siamo sulla nuova versione beta di Steam quindi in questo caso provo ad avviare Counter Strike e vedi se va se in questo caso non dovesse andare andiamo direttamente sul nostro profilo su disconnetti l'account conferma mettiamo le nostre credenziali ok una volta fatto provate ad aprire questo Counter Strike Global Offensive apritelo e vedete se va se in questo caso non dovesse andare andiamo su impostazioni su gestisci sfogli anzi su proprietà su aggiornamenti perché è un po' cambiato qua file installati file installato ok verifica l'integrità dei file del gioco e ci clicco sopra e vediamo se deve fare qualche verifica dei file ok qualche file non è stato convalidato e verrà così riscaricato e non mi resta che cliccare su gioco e vedere se mi esce quell'errore fatale che non riesce neanche a connettersi al client di Steam quindi proviamo a vedere il gioco si è aperto senza problemi come puoi vedere ho la capa in mano senza problemi riguardo all'errore fatale quindi se questo video ti è stato utilissimo ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale attivare la campanellina e se in questo caso avete un errore back che non riuscite a trovare una partita in alto a destra c'è il tutorial su come risolvere quell'errore vac v a c che non riesce a trovare la partita quindi ti consiglio di iscriverti al mio canale youtube e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao